Viaggio per Milano con altri sindaci nel tentativo di rappresentare i problemi che oggi ci sono all'interno dei comuni del territorio Veneto. Io sono sindaco di Rubano, primo comune della cintura di Padova, con i problemi dei tagli ai servizi causati dalla riduzione dei trasferimenti o comunque dalle disponibilità economiche che oggi ci sono. Le difficoltà sono molto grosse legate al fatto che non riusciamo più a mettere in cantiere opere pubbliche con i limiti legati al patto di stabilità e in più stiamo tagliando i servizi perché recentemente mi sto confrontando anche con i tagli non diretti alle finanze del comune ma indiretti legati ai mancati trasferimenti alla regione per il trasporto pubblico e quindi di conseguenza iniziative di aumento delle tariffe sul territorio comunale. Quindi i cittadini alla fine sono quelli che pagano queste riduzioni di disponibilità economiche e alla fine si traducono in maggiori costi per le famiglie e aumenti di quelli che sono le uscite anche per i bilanci familiari. Quindi non è vero che non si toccano le tasche dei cittadini e si toccano e come le tasche dei cittadini senza dare nulla in cambio. Credo che questo debba essere capito e quindi la speranza è che a Milano qualcosa possa essere detto e compreso da chi governa questo territorio.